E' con grande piacere e grande onore che abbiamo ai nostri microfoni la professora Pier Giorgio Spaggiari, che potremmo definirla colonna portante di Spazio Tesla, che organizza il congresso di fisica e medicina quantistica, che è al fianco dell'associazione già dalla prima edizione. Ora siamo arrivati alla quinta edizione. Il professore Spaggiari è fisico e medico plurispecializzato, laureato in fisica e medicina, è stato assistente alla presidenza del CNR e direttore generale di diverse aziende ospedaliere dell'Italia settentrionale. È professore ordinario di medicina dello sport all'Università San Raffaele di Roma. Oggi, professore, si parla di coscienza e si parla di acqua. Lei, a proposito, ha scritto un bellissimo libro dal titolo Le meraviglie dell'acqua, il mistero biofisico che ci dona la vita. Lei avrà tanto da dirci sull'acqua. Beh, direi proprio di sì. Ci dona la vita perché effettivamente la realtà. Dall'acqua è nata la vita. Ma vedete, l'acqua nasconde ancora dei segreti che non sono ancora stati rilevati. Ritorno ad una frase di San Francesco. San Francesco diceva che l'acqua è necessaria, è un'acqua importante per la vita, ma ha usato un termine preziosa che è facile da capire, ma è casta. E a questo punto sul casta io mi sono domandato ma perché San Francesco ha usato nella terminologia, nel cantico delle creature, la definizione acqua casta. E allora ho pensato acqua casta perché è ancora tutta da scoprire. Ma le devo dire con grande felicità che una parte delle conoscenze sull'acqua oggi possiamo dire di averle scoperte. Certo, ce ne mancano anche altre, però la strada è tracciata. Quello che noi stiamo discutendo, delle proprietà che sono proprietà legate alla medicina. Badate bene, oggi nel convegno di oggi tutti i relatori hanno parlato dell'importanza dell'acqua, che è un denominatore comune per il nostro corpo. Noi siamo fatti per il 70 per cento del peso di acqua, ma se contiamo il numero delle molecole di acqua sono il 99 per cento. Voi capite, e questo è importante sottolinearlo, che se non ci fosse l'acqua nessuna reazione biochimica avverrebbe nel nostro organismo. E noi la scoperta, la prima scoperta che abbiamo fatto, è quella di capire perché le molecole si uniscono per fare delle reazioni biochimiche molto grandi. E questa è una proprietà biofisica dell'acqua, ovvero grazie al campo elettromagnetico generato dall'acqua, le molecole per risonanza si incontrano, per formare questi grandi agglomerati che sono le reazioni biochimiche che avvengono nel corpo umano. Professore, le molecole d'acqua e l'acqua che può essere informata, che può reagire, può modificarsi, quindi può anche guarire? Beh, direi insomma, dobbiamo andare sempre con molta cautela, ma la risposta potrebbe essere decisamente affermativa. Perché dico questo? Perché vedete, c'è un grosso contrasto oggi tra la scienza, quella che noi definiamo scienza, e la non scienza al borderline. Ad esempio sulla questione dell'omeopatia, voi sapete quanto batage in positivo e in negativo si è fatto, soprattutto in negativo. Beh, ma sicuramente qualche cosa però c'è nella questione dell'acqua. Che l'acqua riesca a memorizzare dei segnali, senz'altro questo è un dato ormai confermato. Pensate agli studi fatti da Emoto che ha fatto e ha esaminato dei cristalli d'acqua che erano stati informati da delle onde sonore, ma onde sonore meravigliose, stupende, oppure onde sonore brutte, quasi che facevano quasi paura, senso di aggressione. E beh, questi cristalli che hanno delle immagini meravigliose nel caso in cui io parlo di musica stupenda e invece hanno delle forme incredibili, paurose, nel caso di musica di tipo totalmente diverso. Lei, professore, ha scritto dei libri sulla medicina quantistica, si occupa di medicina quantistica ed è precursore di questo già da 25 anni a questa parte. Possiamo dire che nell'ultimo periodo c'è stata un'attenzione particolare alla medicina quantistica, è d'accordo, anche nel campo della medicina, anche e soprattutto dagli stessi operatori della medicina, dai medici. Beh, direi proprio di sì, vede. Nella mia esperienza di direttore generale dei più grossi ospedali lombardi, io ho avuto proprio la possibilità di far vedere ai medici, ai miei operatori, dei più grossi. Certo, col consenso della regione Lombardia, ovviamente, ho fatto vedere come alcune applicazioni con campi elettromagnetici ultradeboli, quindi parliamo di campi la cui intensità potrebbe essere un migliaio di volte dell'intensità del campo elettrico, del campo magnetico terrestre, quindi è niente, è come se noi non facessimo niente, ma non è vero, perché le nostre cellule sono dei ricevitori, esattamente come il ricevitore la radio, il ricevitore radio, e hanno capacità di risuonare, il termine giusto è questo, di captare risuonando quelle che sono le informazioni del campo elettromagnetico esterno. Ma se sono in grado di risuonare vuol dire anche che le nostre cellule sono in grado di emettere, molto importante, perché allora si capiscono cose che avvengono nell'organismo umano e che per noi risultavano ancora un grosso enigma, non riuscivamo a capire. Ma oggi parliamo, se lei entra nell'ambiente medico si parla di musicoterapia, ma se lei entra nell'ambiente medico si parla di pet-terapia, ovvero l'impiego degli animali. E perché l'impiego degli animali? Vuol dire che l'animale, che non ha parola, lo stesso ha capacità di esprimere qualche cosa che le cellule, in modo particolare, del giovane dell'anziano riescono a recepire. Il giovane ovviamente è molto più distratto, è indifferente, sì va anche a fare musicoterapia nelle discoteche dove i segnali sono bestialmente potenti e quindi questi possono rovinare. Ma i segnali deboli, i segnali dolci, i segnali che hanno poca intensità, il corpo umano reagisce con una reazione molto grande. Quindi non è vero che c'è una proporzionalità, anzi esattamente il contrario. Quindi esiste diciamo una risonanza e parlando proprio di quello che è l'attenzione che oggi si dimostra maggiore verso la medicina quantistica, vuol dire che più persone conoscono la medicina quantistica e più sono in grado di entrare in risonanza con altre persone. Sì signora, è proprio così. Infatti noi diciamo l'amore che cos'è? È la risonanza tra due individui, il maschio e la femmina. Oggi si parla anche di risonanze di tipo diverso ma io voglio andare solo nel classico. E quando in effetti due persone si dividono si spacca l'amore, che cosa vuol dire? Che le due persone diventano in dissonanza. Grazie professore, grazie a professor Pier Giorgio Spaggiari. Quindi ricordiamo questi due libri, ma ne ha scritti ovviamente tanti altri, Le meraviglie dell'acqua, il mistero biofisico che ci dona la vita e medicina quantistica. Grazie professore. Grazie a voi.